BTC in verde scuro più 5.87% rispetto a 7 giorni fa. Bentornati al Crypto Monday, buon lunedì. Come ogni settimana faccio analisi sia sul prezzo, quindi appunto quello che è successo dal punto di vista del mercato, sia dal punto di vista dei fondamentali, quindi tutte le notizie e anche le analisi su come effettivamente gli spostamenti anche su blockchain sono andati a caratterizzare sia il prezzo sia l'umore generale di questo mercato. Qui su coin360.com la schermata da dove solitamente inizio questo tipo di rubrica o notiziario settimanale vediamo un più 5.80% circa, ossia BTC che resiste sopra i 16.000 dollari, questa è una notizia non da poco perché non so in quanti si sarebbero aspettati una resistenza così alta nonostante abbia comunque visto anche dei cali durante gli ultimi giorni, durante le ultime settimane. Il mercato segue ma la dominance prevalentemente aumenta, infatti vediamo il 67% qui su questa schermata. Andiamo a vederlo direttamente su CoinMarketCap dove abbiamo una visione più completa MarketCap di 461 miliardi di dollari, quindi molto molto alta rispetto a quello che abbiamo visto durante tutto il 2020 Dominance qui al 65%, comunque una dominance che è andata a salire soprattutto in questo ultimo trimestre Bitcoin a 16.194 dollari, solo nel weekend avevamo visto un riscendere sotto la soglia dei 16.000 dollari adesso vedremo l'analisi tecnica più approfondita ma prima di questo diamo uno sguardo alle migliori di questa settimana c'è un rialzo di SushiSwap con Sushi che fa un 100% in una settimana quindi la ripresa di questo asset legato alla DeFi in generale tante monete legate alla DeFi hanno avuto un importante rialzo, c'è stato Carve, Torchain con Rune poi vediamo anche Uniswap che fa un 44% nell'ultima settimana anche se nelle ultime 24 ore perde il 7% Blockstack 36%, Waves che aveva avuto anche un ottimo rialzo sia oggi che nei giorni passati Aave 33%, Compound e Comp fanno un 26%, Yen Finance abbiamo visto già salire del 25%, Quant eccetera poi c'è Lupring che è un sistema, un layer superiore a Ethereum per la scalabilità anche Nexo fa bene, SwissBorg e poi così dicendo in generale buoni rialzi in questa settimana dove Bitcoin dopo un grande accumulo ha cominciato a ridistribuire un po' in realtà non troppo perché ancora sta incamerando la maggior parte di quello che arriva su questo mercato questa è la fase che stiamo vivendo 7 giorni fa quando facevo il Crypto Monday del lunedì scorso il prezzo aveva una soglia altissima sopra ai 15.000 dollari e già era un prezzo veramente veramente impressionante oggi siamo addirittura sopra ai 16.000 dollari qui vediamo 16.300 dollari se andiamo a vedere il prezzo un mese fa notiamo ancora di più di quanto il mese di ottobre barra novembre quindi metà ottobre diciamo dal 10 ottobre in poi si è stato un trend molto bullish infatti il prezzo il 16 ottobre era 11.300 dollari sulla finestra ancora più allargata quella dei tre mesi il prezzo era a 11.792 dollari a metà agosto ricordando che agosto era stata comunque una fase molto buona molto importante per il mercato con l'esplosione in generale della DeFi tutti i progetti in DeFi un anno fa BTC valeva 8.600 dollari chiunque sia entrato su questo mercato nell'ultimo anno non può essere in perdita a meno che non abbia fatto operazioni strane assurde di trading improvvisando appunto un'operatività senza saper bene come fare oppure è andato in leva in modo sbagliato non so ma se si è entrati in Bitcoin in questo ultimo anno è praticamente matematicamente impossibile essere in perdita anzi sia probabilmente un ottimo profitto attenzione perché questo discorso vale un po' da sempre ossia vale anche sulla finestra allargata ci sono pochissimi giorni in cui Bitcoin valeva più del prezzo attuale quindi per essere in perdita su Bitcoin bisogna essere tra quelle poche persone che hanno comprato gli unici Bitcoin che hanno in quei pochi giorni in cui il prezzo è stato superiore ai 16.000 dollari parliamo veramente di massimo una decina di giorni come sappiamo su CoinMarketCap c'è una media che viene presa in base a tutti i mercati ossia ai vari exchange quindi le coppie di scambio sui vari exchange vengono riportate e viene pesata una media che viene riportata su un agglomeratore come CoinMarketCap andando a vedere nello specifico facendo un po' di analisi tecnica la visione Bitcoin USD quindi Bitcoin dollaro su Coinbase in questo momento qui c'è un ulteriore rialzo e c'è una ulteriore fase di push da parte di Bitcoin che ormai si trova in fase di ipercomprato da diverso tempo se andiamo a guardare l'RSI esattamente dal 20 ottobre quindi quasi un mese di ipercomprato se dovessimo andare a vedere l'analisi tecnica questo ci dimostra anche quanto questo mercato sia effettivamente piccolo ancora e come tutti i mercati in realtà molto irrazionale la cosa che ancora mi fa tenere questo livello di supporto in rosso quindi una volta questa era la resistenza ai 13.800 dollari è il fatto che Bitcoin non ha mai ritestato ancora questo livello è stata una resistenza importantissima lo abbiamo detto per diverso tempo Bitcoin l'ha superata non è mai tornato giù a ritestarla questo è un elemento molto bullish ma potrebbe portare anche un po' di preoccupazione in quanto questa salita prima o poi si interromperà come è sempre avvenuto in questo mercato e anche in altri mercati ci sarà una correzione e la correzione sarà probabilmente anche molto pesante abbiamo visto spesso di come Bitcoin abbia corretto anche per il 30-40% quindi non ci sarebbe da stupirsi questa è anche una risposta alle tante domande che ricevo arriverà un momento in cui Bitcoin avrà un prezzo più basso quindi conviene comprare ora o conviene aspettare in generale andare a fare timing su questo mercato per la mia esperienza personale senza dare consigli finanziari è molto molto difficile non saprei dire quando arriverà un'eventuale correzione ma con molta probabilità ci sarà perché questo mercato è stato così finora e funziona in questo modo essendo caratterizzato anche da dei movimenti inaspettati da parte di grandi balene ad esempio quindi in questo momento qui come vedremo più avanti nell'analisi quello che potrebbe portare un ribasso al prezzo al di là delle varie analisi che possiamo fare è un'eventuale vendita da parte di grandi balene perché in questo momento in realtà il trend è molto molto forte molto rialzista potremmo segnare un ulteriore livello che sta supportando il prezzo in questi ultimi giorni ai 15.800 dollari infatti i 15.800 dollari sono quel livello su quale Bitcoin ad esempio nel weekend si è appoggiato nuovamente in attesa dell'apertura e di vedere come sarebbero riaperte poi le borse come si sarebbe andata a configurare la settimana finanziaria all'apertura quindi legato a questi aspetti di analisi tecnica legherei anche aspetti psicologici quali sono questi aspetti psicologici? sono il fatto che in molti hanno in mente l'all time high quindi in tanti si aspettano comunque un prossimo punto di arrivo ai 20.000 dollari e il prezzo con questo slancio sembrerebbe essere diretto in quella direzione vedremo in che tempi adesso sempre più persone si convincono che questo possa avvenire prima della fine dell'anno quindi entro nel 2020 ecco vedremo se sarà così perché adesso ci saranno altri livelli importanti quindi soglie con cifre tonde come 17.000 e 18.000 vedremo con che impulso Bitcoin affronterà queste altre resistenze cosa che in realtà non sono perché Bitcoin non ha mai avuto resistenze su questi livelli una volta superato quella soglia dei 13.800 è andato dritto verso i 20.000 quindi ad oggi quelle che potrebbero presentarsi come resistenze si andrebbero a creare proprio in questa fase storica qui andate a guardare la Shrait è importante vedere come uno dei più grandi cali della Shrait si è andato poi a recuperare molto molto in fretta infatti questo che vediamo è il più grande calo della Shrait dal 2011 questo avrebbe portato un riaggiustamento della difficoltà con una percentuale molto alta verso il basso adesso la vedremo più avanti mentre con questo rialzo questa percentuale addirittura porterà la difficoltà ad aumentare e non ad abbassarsi spiegherò tutto più avanti e prenderemo appunto l'articolo che ne parla in generale i fondamentali sono fortissimi perché la rete è supportata sempre di più a livello di Hashrate e di Mining Farm Bitcoin sopra i 16.000 adesso cosa succederà? cerchiamo di capirlo qui su CoinTelegraph troviamo questo bell'articolo che ci parla di 5 aspetti da guardare questa settimana qui quindi mi semplifica molto il lavoro e lo andiamo ad analizzare uno a uno innanzitutto il primo è un boom delle azioni del mercato azionario e un crollo, un calo, più che crollo un calo della forza, del potere e del dollaro quindi del valore proprio del dollaro la maggior parte dell'azionario sta salendo, sta continuando a salire soprattutto dopo la fine dell'Election Day o di quella che abbiamo rinominato Election Week visto quanto è durata poi ancora non c'è un esito chiaro su chi sarà il nuovo Presidente degli Stati Uniti ma la fine di quella fase ha portato comunque più sicurezza paradossalmente sui mercati e ha portato quindi dei rialzi importanti in contemporanea dall'indice che stiamo vedendo in questo grafico vediamo di come il dollaro si stia indebolendo quindi da un lato potremmo vederla come l'azionario che cresce o Bitcoin o l'oro che cresce dall'altro invece potremmo vedere una svalutazione del dollaro che è forse la realtà nascosta che sta guidando questa fase cosa guida in alto i mercati? prevalentemente questo accordo, questo RCEP che arriva questa settimana si chiama Regional Comprehensive Economic Partnership che porterà la riduzione delle tariffe sul trading quindi delle tasse sul trading tra i vari paesi a livello internazionale fino al 92% questo è importantissimo perché è uno stimolo ulteriore per le varie economie in generale c'è da aspettarsi più iniezioni da parte delle banche centrali quindi la stampa di nuovi soldi e come sappiamo stampare nuovi soldi porta e agevola e rinforza tutte quelle narrative legate alle riserve di valore quindi sia asset come l'oro sia asset come Bitcoin e ormai non sono più solamente gli esperti del mondo cripto a dirlo ma anche esperti della finanza secondo punto è un po' più legato all'analisi tecnica e questo adesso torno un attimo sul grafico mettiamo il grafico sul settimanale possiamo vedere che c'è una serie di settimane chiuse con dei rialzi importanti abbiamo una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette sette settimane in cui Bitcoin è andato a crescere nel suo prezzo questo è un trend molto molto forte e possiamo notare già dal passato che quando una cosa del genere è successa prima o poi comunque è arrivata anche una forte correzione spesso e volentieri una serie arriva a sette, otto settimane e poi ha comunque una correzione importante quello che successe nel 2020 furono una, due, tre, quattro, cinque settimane e poi una bella candela a scendere ovviamente non è detto che questo succeda anche perché questa volta questa crescita è stata più organica e andremo a vederlo meglio infatti l'analisi di questo articolo non è tanto questo che vi sto dicendo adesso adesso vi sto facendo vedere appunto quello che è il grafico con le candele settimanali in generale questo articolo ci dice che abbiamo vissuto la terza migliore settimana della storia di Bitcoin solo due settimane a livello di chiusura sono state più alte di quella che si è appena conclusa quella che si è chiusa ieri, domenica il mercato adesso è un bivio dovremo osservare con attenzione proprio quello che succederà questa settimana che sarà critica quindi in questa settimana qui si saprà dove Bitcoin starà andando se punta ai piani più alti 17, 18, 20 mila oppure se farà una correzione e potrebbe a questa essere anche molto pesante visto che come ci fa vedere il grafico abbiamo inanellato una serie di settimane in crescita e non si può crescere per sempre in questo modo qui il livello importante che osservano gli analisti in particolare Michelle Van de Poop è il livello dei 15.500 dollari se si dovesse rompere quel livello lì si potrebbe scendere fino ai 13.000 dollari e a quel punto bisognerà vedere come reagirà il mercato se sarà più forte tutta quella domanda che vuole comprare il dip quindi che vuole comprare il ribasso o se scatterà nuovamente del food magari legato anche a delle altre notizie e si continuerà a vendere e anche chi ha comprato alto venderà poi basso perché c'è una fase in cui le mani deboli verranno tolte da questo mercato e rinizierà l'accumulo di chi invece ha una prospettiva una strategia più a lungo termine con questo mi collego al punto successivo gli istituzionali non venderanno gli istituzionali non stanno vendendo come facciamo ad accorgersene ad accorgercene praticamente andando a vedere quello che è l'analisi on chain in questo caso ce lo riporta Willy Wu che da dati fondamentali on chain ci dice di come lo short e il mid term quindi il breve periodo e il periodo medio è molto molto bullish in quanto si nota come molti bitcoin proprio come molte monete stiano uscendo dagli order book degli exchange per andare in altre posizioni magari nei propri wallet questo perché è un sinonimo di trend rialzista perché se le persone tolgono i bitcoin dall'exchange per metterli nei propri wallet probabilmente sono meno propensi a vendere non sono pronti alla vendita ma stanno pianificando un holding più a lungo termine l'altro punto è quello di cui vi parlavo quando andavamo a vedere la shrate la difficoltà dovrebbe aumentare del 4% quindi è un continuo rinforzare quella che è la rete anche a livello di calcolo per ottenere proprio le reward mentre l'aspettativa dopo il calo sarebbe stata quella di un abbassamento del 6% quindi in pochi giorni si è rialzato e addirittura l'aumento della difficoltà adesso sarà quello del 4% attenzione però tutti questi aspetti sembrano essere solo positivi un aspetto negativo che ci dovrebbe far pensare appunto a un'imminente correzione è quella del fear and greed index infatti se andiamo a vedere questo particolare indice indica avidità estrema ormai da tempo quando questo indice fa vedere che le persone hanno troppa avidità è il caso di ragionare quanto meno al contrario quindi andare ad essere un po' più timorosi su quello che potrà succedere quando c'è troppa hype quando c'è troppa enfasi è il momento in cui chi poi effettivamente approfitta delle emotività dei mercati va a fare profitto io non sto dicendo che osservando questo grafico bisogna ora vendere anche perché sapete una mentalità da holder però alle tantissime domande che mi chiedono se tu dovessi ancora comprare questo è lo stratagemma che si usa spesso per non farmi dire cose come se stessi dando un consiglio a qualcun altro se fossi tu e ancora non avessi bitcoin compreresti adesso la risposta semplice è quella che do da sempre non cambia questa mentalità io valuterei un ingresso a scaglioni perché? perché con buona probabilità abbiamo raggiunto livelli molto alti di questo prezzo ci sono grandi probabilità per cui potremmo vedere una correzione quindi non sappiamo al 50 e 50 diciamo potremmo andare a continuare a crescere e al 50 e 50 potremmo invece scendere attenzione sembra che non sto dando una soluzione all'andamento del prezzo in realtà lo sto dando perché siamo arrivati a un bivio difficilmente il prezzo si manterrà su questi livelli durante questa settimana da quello che stiamo vedendo adesso o continuerà a salire su livelli più alti o probabilmente farà una bella correzione siccome non sappiamo sarebbe veramente un coin flip tirare una moneta per capire quello che farà la cosa migliore da fare è andare a mediare questo prezzo quindi psicologicamente emotivamente togliere di mezzo il pensiero se io compro ora e poi scende tanto ho speso di più oppure se io compro ora e poi va a salire ci ho guadagnato tanto perché non possiamo saperlo la cosa giusta da fare è rinunciare a un eventuale perdita a un eventuale guadagno o mettere da parte la paura di un eventuale perdita per pensare se io compro un po' adesso poi scende e ricompro ho mediato il prezzo in ogni caso ho fatto la posizione la scelta migliore se io compro adesso e poi continuo a salire ho fatto bene poi magari anche quando continuo a salire compro un altro po' poi sale un altro po' compro un altro po' e io ho preso il prezzo medio in generale sono sempre in guadagno questo è il modo per essere in profitto su bitcoin l'ho spiegato in un video dedicato che linkerò a questo come fare DCA come fare PAC come vediamo da questo grafico che è quello che riporta l'articolo praticamente questo livello di fear and greed che al momento è sui 90 appunto è il secondo più alto da quello che abbiamo visto il 25 giugno 2019 quindi praticamente livelli così alti solitamente hanno sempre portato delle correzioni molto importanti infatti l'ultima volta che si è raggiunto un livello così alto più alto di questo è stato il 26 giugno dove ha raggiunto il 95 come indice poi c'è stata una correzione molto molto importante che abbiamo visto durante la seconda metà del 2019 questo è destinato a ripetersi in questo modo chi lo sa non è facile saperlo perché questa volta la crescita è stata veramente molto organica e non da parte di retail ma molto più da parte di investitori che stanno continuando ad accumulare e comprare nel tempo allo stesso modo potrebbero questi investitori queste grandi balene andare a scrollarsi di dosso tutti i piccoli investitori mettendo paura grazie a un grande drop e continuare ad accumulare e accumularne in più grazie a un prezzo più basso quindi mi raccomando è molto difficile fare un timing su questo mercato riporto anche la notizia del fork su bitcoin cash visto che molti sono interessati come sapete non seguo troppo queste vicende in passato ho seguito ovviamente il fork iniziale per fare un bel riassunto della situazione bitcoin cash è un fork di bitcoin quindi a qualcuno non piaceva la direzione che stava prendendo bitcoin ha deciso di proporre diciamo dei cambiamenti al protocollo è stato supportato da un hash power da un hash rate minando una catena diversa e quindi si è andato a creare una catena diciamo che poi ha proseguito su una sua strada e ha preso una sua vita allo stesso modo nel 2018 arriva una grande un grande dibattito tra sostenitori di un certo tipo di grandezza di blocco prevalentemente e un'altra grandezza interna a bitcoin cash nasce un'altra divisione di bitcoin cash da bitcoin cash nascono bitcoin cash che veniva chiamato abc e bitcoin satoshi vision capeggiato da craig wright tutta quella storia che comunque potete trovare se cercate anche tra i miei video nei vari anni ho coperto tutte queste vicende a questo punto della storia c'è un nuovo cambiamento quella che era la parte conservativa di bitcoin cash questa volta vuole introdurre un nuovo cambiamento alla catena introducendo praticamente un cambiamento sulla regola del coinbase che cos'è coinbase non è il broker ma coinbase è la reward praticamente è quella transazione che arriva ai miners quando risolvono un nuovo blocco a seguito dell'alving di maggio sappiamo che la reward e la coinbase transaction è di 6,25 bitcoin per la risoluzione di ogni blocco per la catena bitcoin quindi per la blockchain di bitcoin per quanto riguarda bitcoin cash parte di questa reward vorrebbe essere data quindi all'8% su un fondo che verrà utilizzato per lo sviluppo questo fondo è controllato da bitcoin cash a ossia bitcoin cash a b c capeggiato da amory segchat praticamente coloro che hanno visto questo cambiamento e non erano d'accordo hanno proposto un'opposizione ancora una volta si è creato un fork tra le catene e questa nuova catena chiamata b c h n b c h node coin cash node ha insistito sul fatto che questa tassazione sulla coinbase transaction non era necessaria e quindi è diventata la parte un po' più conservativa a quanto pare anche sostenuta da più miners ovviamente perché i miners che andavano comunque a sostenere il cambiamento avrebbero perso parte della loro reward in quanto l'8% sarebbe andato comunque ad un fondo terzo ci sono tante dinamiche da dover sapere cioè da sapere che comunque gran parte del mining è controllato direttamente da coloro che propongono questi tipi di cambiamenti non voglio entrare in queste politiche interne perché veramente ci sarebbe da fare un video dedicato sto riportando così com'è quello che è l'avvenuto in ogni caso il fork c'è stato e come ogni fork di questo tipo quindi hard fork seguito da uno split della moneta ci sarà anche una nuova moneta che verrà data come ottenerla se avete avuto i vostri bitcoin cash su quegli exchange che supportano questo tipo di cambiamento e probabilmente molti magari lo supporteranno troverete anche la nuova moneta nel wallet dedicato andate a vedere in particolare dove lo avevate e andate a controllare se ad esempio avevate questa moneta su Coinbase se Coinbase supporterà questa nuova moneta oppure se le avevate su Binance idem ci sarebbe da fare un'analisi per ogni exchange che supporta o non supporta questo cambiamento grade è stato concluso e a quanto pare al momento la catena più supportata quindi quella più lunga addirittura di 104 blocchi è quella del bitcoin cash node che praticamente è la catena conservativa così come era bitcoin cash detto ciò questo è un aspetto che mi farebbe proprio entrare molto nel dettaglio di questo discorso e diciamo dedicare molto tempo all'analisi e alla spiegazione sono aspetti più tecnici e sono anche la dimostrazione concreta questo lo aggiungo io come mia opinione personale di come chi sostenga che bitcoin cash sia il bitcoin originale non ha ancora afferrato il fatto che bitcoin è bitcoin perché è quello più supportato il bitcoin la catena bitcoin non è decisa a tavolino ma viene decisa in modo corale da tutte le persone che supportano bitcoin se bitcoin cash una di queste catene che adesso sono tantissime perché bitcoin cash node bitcoin abc bitcoin sv se una di queste dovesse crescere avere una capitalizzazione e anche un hash rate superiore al bitcoin che conosciamo beh quello potrebbe essere riconosciuto come bitcoin diciamo non c'è nessuno che decide sono i fatti che decidono effettivamente qual è la vera catena qual è il protocollo originale altro spunto importante è quello del vedere di come effettivamente la critica che viene fatta a bitcoin di essere poco efficiente tecnologicamente inferiore porta effettivamente però un aspetto di conservazione che non lo indebolisce perché se si dovesse sviluppare un effetto come questo che sta avvenendo su bitcoin cash fork dopo fork dopo fork andrebbero a indebolire quello che è il suo aspetto di scarsità perché si bitcoin ha 21 milioni ma se dovesse avvenire un effetto come questo effettivamente il valore della scarsità andrebbe ad essere distrutto quindi siccome è un fattore fondamentale per la diffusione per l'immagine per quello che bitcoin rappresenta come oro digitale beh andare a togliere quel fattore lì e quel pregio avrebbe un danno molto maggiore rispetto alla scalabilità che comunque potrà essere raggiunta nel tempo quando ce ne sarà il reale bisogno e se ce ne sarà il reale bisogno in base alla narrativa che si sta avendo in quel determinato in quella determinata fase storica e ciclica ovviamente riapprofondirò su questo stesso canale quali sono state le notizie fondamentali che hanno diciamo pompato il prezzo di bitcoin ovviamente paypal perché settimana scorsa dopo un calo del prezzo di btc arriva comunque il via libera da paypal per il trading negli stati uniti fino a un limite di 20 mila dollari a settimana per ogni utente e questo limite era inizialmente stato annunciato per essere 10 mila dollari quando è partito questo abbiamo visto una serie di tweet di screen da parte di paypal che iniziava praticamente a promuovere le cripto beh questo è un aspetto super bullish che ovviamente ha condizionato anche il prezzo infatti si è visto in modo palese di come il rilascio di questa feature abbia poi riportato subito su quello che era il prezzo di bitcoin tra l'altro guardate cosa dice il CEO di paypal il passaggio a una forma digitale di currency è inevitabile perché questo porta dei vantaggi chiari in termini di financial inclusion quindi inclusione finanziaria e accesso finanziario efficienza velocità e resilienza al sistema di pagamento quindi questo sistema di pagamento viene fortificato in generale e poi c'è l'abilità la possibilità da parte dei governi di andare a fare degli invii delle transazioni ai cittadini in modo molto più veloce queste frasi sono veramente storiche dette da appunto un paypal che non vuole fare la fine di un blockbuster quindi ha visto il cambiamento inevitabile e dove si sta andando e si sta adattando per tempo è evidente tra l'altro un'altra notizia bullish molto velocemente è che negli Stati Uniti adesso una società che opera nel business appunto dei passaporti e dei visti per gli Stati Uniti accetta pagamenti Bitcoin quindi dalla scorsa settimana si potranno comprare i passaporti si potrà pagare quelli che sono i costi del passaporto e dei visti con Bitcoin questo tramite Coinbase Commerce Coinbase Commerce tra l'altro è quel servizio per commercianti che permette di accettare direttamente criptovalute quindi non sarà ad esempio come altri servizi dove si paga in cripto viene convertito in dollari no in questo caso si paga proprio in Bitcoin e il commerciante può ricevere Bitcoin direttamente quindi è un vero e proprio pagamento in Bitcoin per un aspetto abbastanza istituzionale parlando di decisioni istituzionali l'annuncio importante di questa della settimana scorsa è stata che praticamente a gennaio 2021 sapremo se in Europa arriva la CBDC per il nostro continente ossia se arriverà l'euro digitale Christine Lagarde ha annunciato che per l'inizio dell'anno verrà presa la decisione l'Europa non sta facendo una corsa per essere tra i primi da questo punto di vista ma ovviamente è interessata al discorso stanno si sta parlando di questa cosa ormai da tempo lei da quando è stata praticamente eletta è interessata a questo aspetto qui e ha fatto gli esempi di Facebook Libra e del Yuan digitale cinese di cui abbiamo parlato e di cui sto coprendo quell'analisi grazie al ebook fornito dal professor Gerardo Giovane questa settimana arriverà il secondo capitolo in ogni caso se questo inizierà ad essere sviluppato prenderà piede in circa due tre o quattro anni prima del lancio quindi ci sarà una decisione a gennaio 2021 se si farà l'euro digitale se si farà l'euro digitale questo inizierà ad essere sviluppato e arriverà nell'arco di due tre quattro anni ma quanto pare la cosa sembra ormai chiara quello che è il più grande istituto bancario tedesco si dice convinto che le CBDC sostituiranno il denaro contante in futuro questo passaggio è diciamo non è una novità infatti analizzai quello che fu il report rilasciato proprio dalla Deutsche Bank ho creato una playlist anche qui linkerò quella playlist così da poter vedere come loro hanno già analizzato questo aspetto di come si passerà innanzitutto a un pagamento sempre più portato verso le carte di credito e dalle carte di credito poi si passerà effettivamente a delle monete digitali proprio fatto dalla più grande banca europea volevo fare questo oggi anche un occhio a ethereum 2.0 per vedere come sta andando l'andamento infatti il deposito che sta continuando ad arrivare per essere un validatore quindi per diventare validatore su la beacon chain depositando i 32 ether necessari sta andando a rilento ma questo era da aspettarselo io non sono stupito di questo infatti come anche io sto aspettando e come tanti lo stanno facendo non vedo il perché dovremmo fare un rush per depositare questi 32 ether prima del tempo visto che il tutto partirà se partirà partirà il primo dicembre e questa barra dovrà essere riempita una settimana prima del lancio ancora ad oggi c'è un po' di tempo e probabilmente questa barra si riempirà in modo molto più veloce tanto più si avvicina il tempo il periodo e il giorno del lancio oltre a questo in molti stanno aspettando delle soluzioni più comode non tutti hanno 32 ether pronti vogliono comunque scegliere la pool oppure il gruppo con il quale andare in joint venture per questo deposito inoltre non si sa ancora bene come fare le cose perché se si vuole fare da soli bisogna avere un nodo ethereum attivo bisogna avere delle configurazioni bisogna tenere la macchina sempre accesa eccetera eccetera ma pian piano arriveranno delle soluzioni e quello che sto studiando anch'io mi sto prendendo tutto il tempo che ho anche perché non c'è bisogno di avere fretta non è che se non si entra la settimana prima di dicembre o il primo dicembre non si può più fare si può fare in ogni momento questo è per poter partire quindi anche io sto osservando come lo faccio io lo fanno in tanti e effettivamente quelli già in grado di poter fare questo deposito ad oggi sono pochi coloro che lo possono fare magari hanno degli ether già pronti stanno aspettando magari intanto li stanno sfruttando in defy per avere fino all'ultimo ulteriori altri interessi poi quando sarà il tempo li sposteranno qui perché fin tanto che vengono depositati ad oggi non si ottiene nulla finché la beacon chain non parte finché lo staking non è attivo quei 32 ether sono lì morti senza lavorare quindi nessuno vuole perdere anche se fosse una settimana di profitti questa è come la vedo io quindi è anche normale che questa barra si andrà magari a riempire molto velocemente se lo farà e non è detto che ovviamente si riempirà del tutto però se lo farà vedremo una crescita molto veloce ho notato che in molti avete visto questa notizia infatti per coloro che hanno scoperto bluetooth magari perché l'ho introdotto io diverso tempo fa ormai parliamo di inizio estate la società sta crescendo sempre di più e sta facendo questi perk sempre più attrattivi questa volta addirittura con delle reward legate all'iPhone 12 infatti si può avere un cashback un crypto back fino al 15% onestamente questa volta mi sono stupito anche io perché perché la promozione riguarda diciamo un acquisto senza condizioni ossia non c'è bisogno neanche di avere uno staking di blu all'interno del proprio wallet per avere il 15% indietro sui nuovi iPhone e gli iPhone 12 sono di qualsiasi modello quindi se già eri interessato ad acquistare un iPhone 12 beh questo al momento è praticamente il modo migliore che c'è quantomeno di quelli che posso conoscere io le specifiche sono queste l'offerta più vantaggiosa durerà fino a novembre quindi fino a fine novembre fino al 30 novembre senza nessun tipo di staking nel proprio wallet come ho detto si potrà acquistare pagando con la propria Bluetooth card l'iPhone sull'Apple Store e si avrà un 15% di crypto reward in blu da dicembre in poi quindi dal 1 dicembre al 31 dicembre la promozione diventerà sempre con un 15% ma ci sarà bisogno di avere uno staking level 2 in generale è molto interessante quello che potrebbe essere l'occasione di questo mese perché oltre a questo 15% si può anche usufruire delle promozioni che arriveranno legate ai vari Black Friday Cyber Monday eccetera eccetera quindi non vieta di unire a queste promozioni sempre che queste arrivino poi sul market ufficiale quindi sull'Apple Store come funziona? praticamente qui c'è un video che ci spiega come fare bisognerà andare prima sull'applicazione sulla web application di Bluetooth bisognerà cliccare sui perks selezionare iPhone come scelta di acquisto si andrà sull'Apple website e bisognerà fare il pagamento con la carta ma la guida si può seguire direttamente tramite questo video quindi se siete interessati se avete già la carta potete farlo se non avete la carta siete sempre in tempo per ordinarne una e credo ci sia ancora tempo per poter fare poi questa operazione vi lascio tutti i riferimenti soprattutto questa guida per chi fosse interessato direttamente in descrizione quindi troverete il link a questa guida qui perché attenzione per ottenere il 15% bisogna seguire questi passi sempre legato a Bluetooth e al discorso Plipp quindi per l'aumento della liquidità hanno stretto una importantissima partnership con Autonomy perché è importante questi sono quegli aspetti che muovono le corde un po' dietro dietro le quinte sono quegli aspetti fondamentali da dover conoscere oltre al listing che abbiamo visto su Bitmax che ho coperto adesso sappiamo anche che il liquidity provider è tra i più grandi e più importanti al mondo infatti adesso che ci saranno diversi exchange è importante avere liquidità per lo scambio dei vari plus sui vari exchange questo liquidity provider è quello che alimenta e supporta tra gli altri anche Tether quindi praticamente ha una delle liquidità più grandi al mondo essendo Tether la moneta dai volumi scambiati più grandi in assoluto ancora più grandi di Bitcoin questa notizia importante che ci fa capire della grandezza del progetto di quanto questo vorrà crescere nel tempo tra l'altro a proposito di crescita sempre tornando ai perks mi sono dimenticato di dirvi che a quanto pare stanno anche settando un simile accordo come quello per l'iPhone anche per la Playstation 5 arriverà una cosa simile e la annunceranno con una offerta che garantisce delle reward pagando appunto la console con la carta anche per la PS5 la Playstation 5 da come si muovono già ve l'avevo detto dall'inizio a me questa sembra una di quelle società che punta veramente a crescere parecchio tornando a Cointelegraph ci dicono che le 5 cripto da seguire questa settimana oltre a Bitcoin sono poi Ether XRP XMR e Uni vi lascio questo articolo per approfondire è più che altro un'analisi tecnica su queste monete volevo concludere questo episodio con questo tweet alla ricerca di un valore eterno e in fuga da una palude dove le fiat stanno sprofondando ho attraversato il deserto delle obbligazioni ho diciamo affrontato attraversato la foresta delle azioni ho scalato la montagna del real estate quindi dell'immobiliare e ho passato il miraggio dell'oro prima di arrivare finalmente nel cyberspace nel cyberspazio e trovare rifugio nella banca Bitcoin questo è tanto per capire quanto Michael Saylor ormai si sia convertito e sia un evangelist Bitcoin con tanto di commento anche da parte di Jeff Boot so che poi hanno fatto un podcast insieme lo devo ancora ascoltare Jeff Boot è l'autore del libro che ogni tanto cito The Price of Tomorrow legato a questo aspetto proprio questa settimana la tematica sarà The Bitcoin Standard con ospite Francesco Simoncelli dal titolo la fine del dollaro e l'inizio del Bitcoin Standard abbiamo visto di come il dollaro si stia indebolendo e di come sia forse questo il trend che in realtà stiamo guardando ne parliamo con un esperto di economia mercoledì 18 ore 21 e 30 su Coinsquare da qui potete già impostare il promemoria per questo Crypto Monday è tutto ci vediamo lunedì prossimo intanto mercoledì questa live e durante la settimana altri approfondimenti specifici sul mio canale YouTube ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti